Ciao a tutti, io sono Ambu e oggi siamo qui in questa nuova e sempre emozionante mappa di disco una mappa che riprende il caro e vecchio Sonic che sicuramente tutti voi conoscete e questa mappa consiste semplicemente in un percorso in cui saranno presenti 5 checkpoint e dovremo passare questi checkpoint che saranno spesso sopraelevati o simili dovremo conoscere molto bene la mappa per sapere le vie migliori da cui passare e aiutarci per i salti con la TNT una mappa davvero molto carina, io nella mia corsa che vedrete ho succato abbastanza, non sono ancora molto esperto però sicuramente potrete fare molto molto meglio di me ho pensato di impostare il video in un modo diverso rispetto ai soliti video in cui analizzo le mappe di disco e fatemi sapere se in questo modo vi può piacere di più tanto le regole sono tutte presenti all'interno della mappa c'è un libretto che vi spiega le regole ma partiamo subito benvenuti signore e signori in questa nuova mappa giocata da Ambuno attenzione eccolo che si prepara attiva il timer fa partire la corsa ecco, ecco, come sentite sotto di me il timer ecco vedete il semaforo rosso arancione no, eccolo, arancione, arancione scusate, verde è partito, è partito ragazzi sfortunatamente non ha ancora messo la visuale giusta in terza persona infatti sta provando a cambiare clamorosamente tutte le cose sta facendo screenshot eccetera attenzione, un user è entrato nel suo canale di TeamSpeak quindi è andato nel panico ed è caduto non riesce più a risalire ok, è risalito, è risalito ecco passa il primo checkpoint no, si ferma, si ferma si ferma per settare la modalità passa il primo checkpoint ed ecco che è il primo salto, il primo salto attenzione ragazzi salta ancora, salta ancora si sta avvicinando al secondo checkpoint eccole, è un po' indeciso ferma la corsa per poi ripartire prende i danni ma non li sente non li sente perché è troppo forte passa al secondo checkpoint si prepara un salto lo farà bene, lo farà male attenzione, bellissimo salto bellissimo salto forse è l'unico bel salto che avrà fatto in tutta questa map probabilmente eccolo, eccolo si prepara al prossimo salto ooooo un altro bellissimo salto per il nostro campione ragazzi che arriva al terzo checkpoint terzo checkpoint e fail salta clamorosamente attenzione dopo il terzo checkpoint ragazzi però trova subito la via trova la via probabilmente è abbastanza esperto di questa mappa dopo averla failata a volte su volte però ecco che sbaglia ancora sbaglia ancora clamorosamente e si ritrova in acqua tutto bagnato come un ritardato eccolo, eccolo risale, risale non si dà per vinto attenzione parte, parte vede che c'è un salto prende il salto vola, vola ma non ce la fa non ce la fa risalta si blocca quasi riuscito a uscire ok, ok eccolo, eccolo, eccolo attenzione prende la rincorsa prende la rincorsa vuole farcela vuole farcela ragazzo salta e non ce la fa ancora clamoroso ragazzi però questa volta sì questa volta sì eccolo è arrivato al quarto checkpoint quarto checkpoint ragazzi la partita è quasi finita sta superando un ponte ponte molto difficile da superare attenzione scende scende il quinto checkpoint si vede si vede eccolo salta salta 360 360 ma non ce la fa viene sparato indietro questo 360 fallito e e attenzione non fa lo scatto e quindi viene sparato indietro ma lo farà questa volta sì 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 eccolo eccolo entra nella bocca del nemico attenzione attenzione si vede il quinto checkpoint ecco il quinto checkpoint lo supera lo supera ragazzi ecco l'arrivo oooooooole 2 minuti e 54 e 9 ooo oooole